E' stata ritrovata in un albergo a Rimini dagli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo dopo giorni di ricerche in tutta Italia, la sessantenne, figlia e convivente dell'anziana trovata senza vite in un appartamento di Via Montanara nel quartiere di Saione. Rassano tanti gli interrogativi che dovrà chiarire agli inquirenti ma al momento ha deciso di non rispondere nel corso dell'audizione come persona informata sui fatti. La 92enne era stata ritrovata cadavere in avanzato stato di decomposizione lo scorso 31 agosto era morta da almeno due mesi. I soccorsi l'hanno trovata sdraiata sul letto con la camicia da notte e in mano il telecomando della TV. A vegliarla fino all'ultimo il gatto trovato aggrappato al materasso dove giaceva la padrona stroncato probabilmente dalla fame. Subito dopo il ritrovamento del cadavere erano scattate anche le ricerche della figlia che abitava con la madre e aveva l'accompagnamento ma che era scomparsa nel nulla. Era stata avvisata prima a Livorno, poi in Riviera Romagnola. Sinceramente non l'ho conosciuta mai, sono tre anni che sto qui. La figlia sì qualche volta l'ho vista sì, usciva la mattina e tornava la sera. Io lo vedevo anche un po' persa sinceramente, non era nei suoi 100%. Sinceramente è tanto che la vedo, una mesata su per giù, sì 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 sì. Sinceramente mi dispiace. Nelle prossime ore sarà svolta l'autopsia disposta dal PM Giulia Maggiore sul corpo dell'anziana. Un esame autoptico di tipo veterinario potrebbe essere svolto anche sul gatto ritrovato senza vita in camera da letto accanto alla donna. Nell'appartamento nessun segno di effrazione, tutto in ordine. Sul corpo della donna non sono stati rilevati segni di violenza.